Per le parole d'Europa oggi parliamo del Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo è l'unica istituzione dell'Unione eletta direttamente a suffragio universale da tutti i cittadini dell'Unione Europea e quindi il principale organo chiamato a rappresentare gli interessi comuni di tutti i cittadini europei e fa parte, come ci dice il nome, dell'apparato legislativo dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo è la Camera bassa, la Camera dei cittadini di un legislativo che ha nel Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, dove siedono i Ministri dei Governi degli Stati membri, la Camera alta che rappresenta gli Stati. Ha quindi un ruolo fondamentale nell'attività legislativa dell'Unione, nonché un ruolo di controllo nei confronti della Commissione Europea, dal momento che la Commissione per entrare in carica deve ottenere la fiducia del Parlamento che ha appunto un compito di vigilanza e di controllo e che può anche presentare una mozione di censura nei confronti della Commissione portandola a dimissioni se c'è una maggioranza favorevole alla censura nel Parlamento.